Nella macchina mi metto 10 ore, mi metto in testa, suono perché altrimenti mi disturbo nel film. Si parte sempre da un film video, non ce l'ho fatto. Allora per... Inseca scrive. Adesso, aspetta che vi torno. Dov'è sempre passare dall'enter. Tu ti trovi la roba? Vuota. Vuota. Allora, se non hai schiacciato grub non vedi mai. Non vedi niente. Non puoi farla comunque la lavorazione? Si, la fai tutta senza i gruppi perché sono tutti indipendenti. Ecco, la cosa è così. La fai e si muovono, anzi te lo faccio se vuoi. Facciamo così. La fai tutta senza i gruppi. Grazie a tutti.